Sei appassionato di storie e dei misteri del passato? In questo video ti condurremo in un viaggio attraverso alcuni dei siti archeologici più affascinanti del mondo. Numero 1. Caral. Caral, in Perù, è uno dei siti archeologici più antichi d'America. Si trova nella Valle del Supe, a circa 200 chilometri a nord di Lima. Questo complesso archeologico, scoperto nel 1948, è noto per la sua antichità, risalente al 2600 anno corrente circa, che la rende una delle civiltà più antiche delle Americhe e del mondo. Caral fu la capitale della civiltà Caralsupe, una cultura preceramica che precedette le civiltà più conosciute della Mesoamerica e del Sudamerica. Il sito di Caral comprende una serie di piramidi a gradoni, piazze circolari, anfiteatri e abitazioni che mostrano una pianificazione urbana avanzata e una complessa organizzazione sociale. Tra le sue caratteristiche più notevoli ci sono la Grande Piramide, che è la struttura più imponente del sito, così come il suo complesso sistema di piazze e spazi cerimoniali. I ritrovamenti a Caral hanno rivelato una società sofisticata con un'economia basata sull'agricoltura irrigua, nonché elaborate pratiche religiose e culturali. Questo sito archeologico non è importante solo per la sua età e complessità strutturale, ma anche per ciò che rivela sulle origini e sui primi sviluppi delle civiltà nelle Americhe, sfidando le concezioni precedenti sulla cronologia e sulla capacità culturale dei primi abitanti del continente americano. Numero 2. Arkheim, conosciuta come la città perduta della Siberia, è un enigmatico e affascinante sito archeologico situato nella Russia sud-occidentale, vicino al confine con il Kazakistan, nella regione degli Urali Meridionali. Scoperto nel 1987 da un team di archeologi russi, Arkheim ha incuriosito ricercatori e appassionati di storia per la sua complessità e le incognite che circondano là, sua origine e il suo scopo. La scoperta di Arkheim è stata accidentale. Gli archeologi stavano esplorando la zona alla ricerca di un sito adatto per un bacino idrico quando si imbatterono nei resti di questa antica città fortificata. Durante gli scavi, divenne chiaro che Arkheim era un insediamento dell'età del bronzo, intorno all'issecolo anno corrente, appartenente alla cultura sintashta-petrovka, una delle prime culture indo-europee, Arkheim si distingue per il suo design urbano avanzato. La città ha una struttura circolare con due mura concentriche che proteggevano l'insediamento. Le mura, costruite in terra e legno, erano progettate per resistere agli attacchi e garantire e sicurezza agli abitanti. All'interno delle mura la città era organizzata in settori radiali che ospitavano abitazioni, officine e spazi comuni. Questo design radiale suggerisce una pianificazione meticolosa e conoscenze ingegneristiche e architettoniche avanzate. Uno degli aspetti più affascinanti di Arkheim è il suo allineamento astronomico. Gli studi hanno dimostrato che la città era orientata in relazione agli eventi celesti, suggerendo che i suoi costruttori avessero una profonda conoscenza dell'astronomia. Alcuni ricercatori paragonano Arkheim a Stonehenge per il suo possibile utilizzo come osservatorio astronomico. La disposizione delle strutture permette di osservare fenomeni astronomici come i solstizi e gli equinozi, che per i suoi abitanti avrebbero potuto avere un significato rituale o calendariale. Nonostante numerosi scavi e studi, Arkheim rimane avvolta nel mistero, non si sa con certezza perché la città fu abbandonata ne quale fosse il suo scopo principale. Alcune teorie suggeriscono che potrebbe essere stato un centro religioso, un osservatorio astronomico o una fortezza militare. L'assenza di cimiteri e di resti umani solleva interrogativi anche sulla vita quotidiana e sulle usanze funerarie dei suoi abitanti. Oggi Arkheim è un sito di grande interesse sia per gli archeologi che per i turisti. È diventato un simbolo dell'antica storia russa e una finestra sul passato indo-europeo. Il sito attira ogni anno migliaia di visitatori, che vengono ad ammirare le rovine e riflettere sugli enigmi di questa antica città. Arkheim ha anche ispirato una rinascita culturale e spirituale nella regione, con molte persone che lo vedono come un luogo sacro di potere. Arkheim, la città perduta della Siberia, rimane un enigma che sfida la nostra comprensione della storia antica. La sua pianificazione urbanistica avanzata, i suoi allineamenti astronomici e i misteri che la circondano continuano ad affascinare chi la studia e la visita. Arkheim non è solo una testimonianza dell'ingegneria e della conoscenza delle antiche culture indo-europee, ma anche un invito a continuare a esplorare e svelare i segreti del passato. Numero 3. La Valle dei Nobili Sulla sponda occidentale del Nilo, vicino a Luxor, si trova la Valle dei Nobili, un vasto cimitero che ospita le tombe di alti funzionari e membri dell'élite dell'antico Egitto. Queste tombe, riccamente decorate con rilievi e dipinti, offrono uno spaccato dettagliato della vita e delle credenze della nobiltà egiziana. Tra le scoperte più importanti ci sono le tombe di Menna e Nacht, famose per le loro scene colorate di vita quotidiana, così come le tombe dei nobili che servirono i faraoni durante il Nuovo Regno. La continua esplorazione di questa valle continua a rivelare nuove intuizioni sulla società e sulla cultura egiziana. Numero 4. La Grotta degli Occhi di Dio Conosciuta anche come Proodna, è un'imponente grotta situata nel nord della Bulgaria, vicino al villaggio di Karlukovo. Questa grotta è nota per i suoi due enormi fori nel soffitto, che permettono alla luce naturale di entrare e conferiscono alla grotta un aspetto unico. Questi buchi, che ricordano gli occhi, hanno dato origine al nome della grotta, di che sembrano osservare chi la visita. La grotta ha una lunghezza di circa 262 metri ed è una delle più grandi grotte della Bulgaria. Gli occhi della grotta si sono formati dall'erosione naturale e si trovano a circa 45 metri di altezza dal pavimento della grotta. I visitatori rimangono spesso colpiti dalla bellezza e dalla maestosità della grotta, apprezzata anche dagli amanti della speleologia e dell'arrampicata. Oltre al suo aspetto visivamente impressionante, la grotta è nota anche per le sue caratteristiche acustiche, che la rendono un luogo popolare per concerti ed eventi culturali. Gli occhi di Dio sono una delle meraviglie naturali più conosciute della Bulgaria e una destinazione turistica, molto apprezzata per la sua unicità e bellezza naturale. Numero 5. I Monti Tianzi, situati nella provincia cinese dell'Unan, sono un paesaggio impressionante che ha ispirato le cime fluttuanti del famoso film Avatar. Il nome Tianzi significa il figlio del cielo e questi pinnacoli di arenari a Quarzosa si sono formati durante più di 300 milioni di anni di erosione. Questo luogo unico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e chi lo conosce bene suggerisce che il periodo migliore per visitarlo è dopo il periodo delle piogge estive. Durante questo periodo, le cime sono parzialmente coperte da un incantevole mare di nebbia, creando l'illusione che le montagne fluttuano nell'aria. Per accedere ai Monti Tianzi, puoi percorrere sentieri che partono dalla città di Wangxi e godere di molteplici punti di vista per contemplare questo incredibile paesaggio naturale. Numero 6. Le Catacombe di Parigi. Sono una vasta serie di tunnel sotterranei e ossari situati sotto le strade di Parigi, in Francia. Queste catacombe si sono formate da antiche cave di pietra calcarea utilizzate per secoli per costruire molti. Degli edifici più iconici della città. Nel XVIII secolo, i cimiteri di Parigi iniziarono a soffrire di sovraffollamento, provocando una crisi sanitaria in città. Come soluzione si decise di spostare i resti umani da diversi cimiteri nel sistema di tunnel sotterranei. Nel 1786 le catacombe furono ufficialmente aperte come ossario e nel corso dei decenni. Milioni di resti umani furono trasferiti nelle catacombe. L'ossario si estende per circa 300 chilometri di gallerie, anche se solo una piccola parte aperta al pubblico. La sezione accessibile presenta corridoi fiancheggiati da ossa e teschi disposti artisticamente, creando un'esperienza visiva unica per i visitatori. Oggi le catacombe di Parigi sono una popolare attrazione turistica e un sito di interesse storico e culturale. I visitatori possono passeggiare attraverso il labirinto di tunnel e scoprire la storia dietro questo luogo unico. Sebbene affascinanti, le catacombe hanno anche un'aria di mistero e solennità a causa del numero di resti umani che ospitano. Numero 7. Svagsvat è il lago più grande delle isole Faroe, situato sull'isola di Vagar. Conosciuto anche come Leiti Svatin, questo lago è noto per la sua splendida posizione e le caratteristiche geografiche uniche. Una delle caratteristiche più sorprendenti di Svagsvat è la sua vicinanza all'oceano atlantico e la sua elevazione rispetto al livello del mare. Il lago ha una lunghezza di circa 6 chilometri e una larghezza massima di un chilometro. La sua superficie è di circa 3,4 chilometri quadrati, che lo rende il lago più grande dell'arcipelago. Svagsvat si trova a circa 30 metri sopra il livello del mare, ma la sua posizione sul bordo della scogliera gli conferisce un aspetto ingannevole, come se fosse sospeso sopra l'oceano. Il paesaggio che circonda il lago è meraviglioso, con verdi colline e ripide scogliere. La foce del lago è una cascata chiamata Bisdala Fossur, che cade dall'estremità del lago nell'oceano atlantico, creando uno scenario spettacolare. Svagsvat è una destinazione popolare per i turisti che visitano le isole faroe per la sua bellezza naturale e le viste mozzafiato che offre. I sentieri intorno al lago consentono ai visitatori di esplorare la zona e godersi i dintorni tranquilli. Numero 8. Teatro Andromeda. C'è una rara zona sospesa tra la Terra e le stelle a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, Italia. È il Teatro Andromeda, uno specchio di paradiso ancora poco conosciuto dai più, ma che offre uno spettacolo unico. La costruzione è ben illuminata da luce naturale e non vi sono segni di artificio o di ausilio elettrico. Tutto è stato pensato per integrarsi con la natura, regalando uno spettacolo unico dove il tempo sembra sospeso in un intervallo infinito tra presente, passato e futuro. Numero 9. Le grotte di Barabar. Sono un insieme di grotte scavate nella roccia nello stato indiano del Biar. Queste grotte sono di notevole antichità, risalenti al periodo Maurian. Rendendole le più antiche grotte scavate nella roccia dell'India. Sono conosciuti per le loro iscrizioni, alcune delle quali risalgono al periodo del monarca Mauria, Ashoka. Queste grotte si trovano sulla collina Barabar e sulla diacente collina Nagarjun. Alcune sono considerate un gruppo separato di grotte. Sono stati scolpiti nella solida roccia di granito e la maggior parte a due camere. Il primo avrebbe ospitato grandi raduni di devoti, mentre il secondo conteneva uno stupa, una struttura a forma di tumulo contenente reliquie. L'architettura di queste grotte è particolarmente notevole grazie alla lucidatura Mauria all'interno delle camere, che produce un caratteristico effetto eco. Questo effetto avrebbe avuto un impatto sui fedeli riuniti nelle grotte, aggiungendovi una dimensione spirituale. Numero 10. La casa più solitaria del mondo. In Islanda è una piccola capanna situata sull'isola di Eliaei, un'isola disabitata situata a sud dell'Islanda. Questa casa è nota per il suo isolamento perché è circondata dal vasto oceano Atlantico e non ha vicini stretti. L'origine della casa risale agli anni 50, quando l'Associazione Islandese di Caccia costruì la capanna per utilizzarla come casino di caccia. La casa è una semplice struttura in legno, senza elettricità né acqua corrente. Serve come rifugio per i cacciatori che visitano l'isola durante la stagione di caccia agli uccelli marini, in particolare alle pulcinelle di mare. Anche se a volte si dice erroneamente che la casa sia stata un regalo alla cantante Bjork, questo è falso. L'isola e la casa sono un esempio della bellezza naturale dell'Islanda, con paesaggi mozzafiato che includono montagne, scogliere e vegetazione selvaggia. L'isolamento e la serenità di questo luogo lo rendono un sito unico e misterioso che attira l'attenzione di visitatori e curiosi da tutto il mondo. Numero 11. Grotte Fingal. La nebbia che di tanto in tanto avvolge Staffa, un'isola a 8 miglia ovest di Mull nelle ebri di interne scozzesi, è fitta quanto le nebbie che nascondono la verità su Fingal. Era un colosso o semplicemente un uomo? Fjomek Kamail, l'eroe irlandese, era un mannese o uno scozzese. E qual è il suo collegamento con la notevole grotta sulla costa meridionale di Staffa? Avvicinandosi dall'acqua, la grotta di Fingal sembra troppo bella, troppo progettata dal punto di vista architettonico per essere naturale. Un buco a forma di cuore alto 42 piedi e circondato dalle stesse colonne esagonali di basalto che costeggiano il Jantess Causeway nell'Irlanda del Nord, una delle prime attrazioni turistiche della Scozia. È un luogo di incontro di celebrità come Wordsworth, Keats e Turner. Questo perché la grotta di Fingal ha un'altra caratteristica che si riflette nel suo nome gaelico, Anwain Bin, o Grotta della Musica. L'acustica cristallina creata dalle colonne di basalto e dal soffitto a volta portò Mendelssohn a comporre la sua. Uverture delle Ebridi, una meravigliosa opera d'arte misteriosa. Numero 12. La Torre del Diavolo. Viaggeremo direttamente nello stato nordamericano del Wyoming per godere di un'autentica, peculiare ed enigmatica meraviglia geologica, la Torre del Diavolo. Questa formidabile formazione rocciosa è diventata protagonista del territorio che occupa, classificandolo parco nazionale. La Torre del Diavolo si trova al centro di un'ampia pianura completamente pianeggiante, essendo un monolite di origine vulcanica. La sua forma e dimensione perfette rendono questa formazione rocciosa, che sembra apparsa dal nulla, l'attrazione principale del Wyoming. Nonostante la sua altezza modesta di soli 386 metri, gli alpinisti che possono raggiungere altezze fino a 8000 metri non sono in grado di scalarla a causa delle sue, pareti praticamente verticali. Salire in cima e, cosa ancora più difficile, scendere, diventa una sfida quasi impossibile. Sebbene le sue origini non siano del tutto chiare, studi recenti suggeriscono un'origine vulcanica, spiegando la sua forma come risultato del raffreddamento della lava ad una temperatura specifica. Comunque sia, questo grattacielo roccioso è il luogo ideale per gli appassionati del misterioso. Numero 13. Ponte di vetro di Zhangjage. Conosciuto anche come il ponte di vetro del Grand Canyon di Zhangjage, è una struttura spettacolare situata nel Parco Forestale Nazionale di Zhangjage, nella provincia di Hunan, in Cina. Inaugurato nel 2016, questo ponte è diventato un simbolo di innovazione e audacia architettonica. Il ponte di vetro è lungo circa 430 metri e si eleva a circa 260 metri sopra il fondo del canyon. È costruito con pannelli di vetro trasparente che consentono ai visitatori di camminarci sopra e di godere di, viste mozzafiato sul canyon e sui paesaggi circostanti. Una delle caratteristiche più notevoli del ponte è il suo design moderno e leggero, con ringhiere in acciaio e pavimento in vetro temperato. Il ponte può ospitare centinaia di persone alla volta ed è una destinazione popolare sia per i turisti, locali che internazionali, oltre ad essere un'attrazione turistica. Il ponte di vetro di Zhangjage viene utilizzato anche per eventi sportivi estremi come il bungee jumping e la teleferica, aggiungendo un elemento di avventura all'esperienza. Il ponte ha ottenuto il riconoscimento globale per il suo design innovativo e per essere uno dei ponti di vetro più lunghi e alti del mondo. La sua costruzione rappresenta una pietra miliare nell'architettura moderna e una dimostrazione della capacità della Cina di realizzare progetti ingegneristici altamente complessi. Spero che il nostro video vi sia piaciuto tanto quanto a noi è piaciuto crearlo. Se ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di mettere mi piace. Grazie per esserti unito a noi in questa avventura.